Ciao a tutti, ci sono due domande che mi fanno spesso durante le live che a mio parere non hanno nessun senso. Allora, la prima domanda qual è? Franco, sei mai stato a Salvador di Bahia? Franco, conosci per caso Florianopoli o Santa Catarina? Franco, sei già andato alla Schapada Diamantina? Gente, chi fa queste domande? Prima di tutto non conosce bene la geografia del Brasile. E poi, altra cosa più importante, non ha nessuna idea di cosa voglia dire vivere qua in Brasile. Allora, le dimensioni di questo benedetto paese sono, l'ho già detto tantissime volte, praticamente enormi. È un paese che è grande più o meno come l'Europa intera. Quindi le distanze tra una città e un'altra, quindi tra un posto e un altro, sono veramente enormi. In più dovete considerare che viaggiare qua in Brasile, dentro il Brasile, è estremamente complicato e molto, ma molto costoso. Molto più costoso che girare, per esempio, per l'Europa intera. Quindi io che vivo nello stato di San Paolo, è già tanto che io riesco ad andare a San Paolo, nella città, che dista più o meno 100-150 chilometri. C'è stato un giorno che mia moglie mi ha detto, ah, Momo, perché domenica non andiamo a Curitiba? Curitiba? Allora, Sorocaba e Curitiba, la distanza che c'è tra queste due città, è di circa 400 chilometri. Vuol dire praticamente 5-6 ore di macchina. E quindi il mio parere diventa un attimino complicato. Se io dovessi andare di aereo, che è la cosa migliore per viaggiare qui in Brasile, vuol dire spendere come minimo un 400 reais a persona solamente per il biglietto aereo. Dopo dovete aggiungere l'hotel, il ristorante, varie stupidate che magari uno è lì che compra e che fa. E quindi per me, da Sorocaba, per andare a Curitiba, viene veramente a costare molto e ci vuole tantissimo tempo. Immaginate cosa voglia dire andare, che ne so io, a Rio de Janeiro o andare a Florianopolis o andare a Bahia. C'è una cosa improponibile. Ma al di là di questo, è praticamente la stessa cosa come se io chiedessi a voi che siete in Italia. Oh ciccio, sei mandato in Islanda o in Finlandia o all'isola di Malta? Cioè, quanti di voi sono andati in questi posti? Io penso molto, ma molto pochi. Non dico nessuno, per l'amore di Dio, ma saranno molto pochi. E pensate che viaggiare in aereo, comunque viaggiare in Europa, è molto più semplice e moltissimo più economico che qui in Brasile. Lasciando perdere queste distanze appunto così enormi. Ditemi la verità. Quanti di voi sono già stati, che ne so io, a Parigi o a Londra? Sì, ok, magari qualcuno ci sarà stato, magari qualcuno è andato a Parigi per il viaggio di nozze. Ma quanti di voi hanno avuto l'opportunità di poter andare in queste città che tutto sommato sono vicine all'Italia? Anche in questo caso sono poche. Gente, io conosco molte persone, molti italiani, che non sono mai andati, che ne so io, a Bergamo o a Macugnaga sul Monterosa pur vivendo a Milano. Quindi non potete venire da me e dirmi, Franco sei già stato a Bahia? No, non ci sono mai stato. E nemmeno ci andrò, a meno che non vinca la lotteria. Quindi, ripeto, la domanda che fate è, non dico legittima, però ok, uno verrebbe spontaneo. Però, come ho detto all'inizio, chi fa queste domande è perché non conosce la geografia del Brasile, non ha idea di come siano le dimensioni di questo paese e soprattutto non conosce il Brasile. Perché se questa persona vivesse qua, sapesse come funzionano le cose, non mi farebbe una domanda del genere. Perché saprebbe benissimo che per uno che abita a San Paolo, andare, che ne so io, nel nord-est o nel sud del Brasile diventa veramente un problema. Ok. Altra domanda che mi fanno, e questa sinceramente mi fa ridere, è Franco, dove vivi tu? Ci sono serpenti e ragni verenosi. Oh, per l'amor di Dio, gente. Cioè, è vero che vivo in Brasile, ma io vivo in una città. Non vivo in Amazonia, non vivo in una foresta. Come potete immaginare che in una città, qualunque essa sia, ci siano serpenti, ragni e altre bestie feroci? L'unico animale che in alcuni casi potrete trovare in una città brasiliana è lo scorpione. Ma lì dipende dal tipo di casa, da come è fatta, da come è stata costruita, dalla pulizia che ha questa casa. Quindi, ok, qualcuno qui in Brasile, pur abitando in una città, ha trovato degli scorpioni in casa. Ma ripeto, è un caso, non dico eccezionale, dipende proprio dal tipo di casa, da come è fatta e da tante altre cose. Ma serpenti, ragni, sì, ok, un ragnetto lo posso trovare anch'io in casa, ma certamente non quei ragni che fanno paura, che si vedono nei documentari del Brasile. Se abitassi in campagna, allora ok, lì le cose sarebbero diverse. Pur non abitando in Amazonia, chi abita in campagna può trovare degli animali non tanto simpatici, mettiamoli in questo modo, ma devi proprio abitare in aperta campagna. Io, torno a dire, vivo in città, grazie a Dio, e quindi tutti questi animali strani è ovvio che non li trovo, meno male. Quindi, riassumendo, queste due domande tipiche che ricevo praticamente sempre, da una parte le considero diciamo normali, nel senso uno sente la parola Brasile e subito gli viene nella sua testa determinate cose, determinate situazioni, eccetera, eccetera. Però, allo stesso tempo, come ho detto all'inizio, sono domande che non hanno senso e basta ragionare un attimino per capire che una domanda del genere, quindi se è ma stato là o se ci sono animali strani, a mio parere, come ho detto, non hanno senso e quindi forse sarebbe meglio non farle. Però, per l'amor di Dio, non sto criticando nessuno, quindi fatemi tutte le domande che volete, io nel limite del possibile, come sempre, cercherò di rispondere, ok? Quindi noi ci vedremo nel video prossimo o nella prossima live, va bene? Ciao!